Fin dalla nascita Siddhartha presenta i segni fisici di quello che in India è definito un maa purusha, ovvero un grande uomo. I segni principali sono 32 e tra questi troviamo il ciuffo di peli tra le sopracciglia e la protuberanza cranica. A fronte dell'eccezionalità del figlio appena nato, il re Shuddhodana chiede ai sacerdoti di corte di stirare l'oroscopo di Siddhartha, qui raffigurato in braccio al padre. Il bambino avrà un destino eccezionale e diventerà o un sovrano universale, regnando su tutta la terra, o un illuminato, votato a una vita spirituale. Questa notizia colma di gioia Shuddhodana, ma il sovrano, temendo per la fine della dinastia, pone il veto all'uscita del piccolo principe dalla reggia di Kapiravastu. Siddhartha cresce a corte, fra compagni di gioco, studio e preparazione fisica, sposa a Yashodara e a un figlio, Rahula. Tuttavia, la curiosità per il mondo lo induce a chiedere con insistenza al padre di uscire dalla reggia. Siddhartha compie quattro uscite e, sebbene il re cerchi di negare l'evidenza della sofferenza, il futuro Buddha incontra per caso un vecchio, un malato, un morto e, infine, una sceta. Questi incontri turbano il giovane principe, che coglie la natura effimera della vita e decide di abbandonare la dimora paterna. L'episodio della fuga da palazzo è raffigurata in maniera aniconica nell'arte di Sanci, dove l'uscita dalla città è rappresentata solo da un parasole retto da un servitore, che compare sopra un carro trainato da un cavallo. Ma è nell'arte del Gandhara, l'antica regione posta a cavallo fra Pakistan e Afghanistan, che questo episodio trova la sua più grande espressione artistica, con il Buddha raffigurato in forma umana. In questo rilievo, il pannello in alto mostra l'episodio dell'addio di Siddhartha alla moglie che dorme dopo una festa celebrata a corte. La scena è divisa in tre spazi, con due porte di ingresso ai lati e una sala al centro. Sotto l'arco posto sulla destra si trova il servitore Chandaka, raffigurato di spalle, mentre entra nel palazzo richiamato dal principe Siddhartha perché prepara il cavallo per la fuga. Sotto quello posto a sinistra si trova lo stesso Chandaka, riprodotto di tre quarti, mentre dà al principe un turbante e le redini del cavallo Kantaka. Il pannello sottostante rievoca la fuga notturna dalla reggia. Sulla destra, il futuro Buddha esce dalla porta della città a cavallo di Kandaka. Fra le figure presenti sulla scena emerge un personaggio vestito da guerriero e Mara, il dio della morte, intento a sbarrare la via dell'illuminazione al futuro Buddha. Grazie a tutti.